ciao a tutti ragazzi sono karen alcuni mi dicono perché dici che sei karen vabbè lo sapete chi sono più o meno qualcuno lo sa e linea generale come vi avevo promesso avrei portato un video oggi e non durante la nottata relativo al dream festival purtroppo i piani come sempre mi sono saltati ho fatto promesse che non potevo mantenere si qua c'è un gatto impazzito che devo mantenere quindi ogni tanto mi vedete che faccio è per mantenere il gatto quindi non sono riuscito a mantenere la promessa e per lo più sia tutta la giornata di mercoledì che tutta la giornata di giovedì ovvero tutta la giornata di oggi mercoledì e tutta la giornata di domani sarò impossibilitato a giocare quindi automaticamente a farmare le dream ball per una parte è positivo perché riesco a mettere riuscirò poi a fare 250 dream ball finali diciamo di storia e di qualche evento che mi permettono nel caso in cui venerdì o lunedì la che lab se ne esce con un magico banner world cup europeo altrimenti nel caso sono solo dream ball che poche andrò a conservare praticamente per il futuro tralasciando questo quindi non ho mantenuto la promessa sarà un altro video pull purtroppo da 150 dream ball perché non sono riuscito a fare più di quelle non ce la faccio più a fare la storia non ce la faccio più non ce la faccio ho bisogno di una pausa sono un essere umano anch'io e quindi farò 10 singole come nell'ultimo video di 10 singole e due multi summon quindi stessa cosa dell'ultima volta proviamo le singolette della fortuna ora mi esce anche stavolta genzo e retap doppione mi esce diciamo di nuovo due volte come la storia di calz e quindi lo seguo come un cavallo quindi ragazzi questo è tutto spero che non vi arrabbiate troppo anche perché come sempre prometto di fare determinate cose e poi non le faccio zanzan e quindi bla bla però almeno sto portando un video al giorno quindi sto mantenendo un pochino quello che erano i ritmi di un anno fa più o meno un po scombinati perché almeno allora facevo le live però sto portando un video al giorno ricordiamoci che questo è il video finale quindi il mio dream festival finisce qui ufficialmente ne parlo già con una nota dolente perché però il mio dream festival finisce qui questo è il questo è la fine questo ultimo l'ultimo video l'ultimo non lo so è la fine c'è già già mi sono dato la sentenza che non esce niente però sì questa è la fine questo è il mio dream festival quindi andiamo con calma con ok quindi abbiamo detto 10 singole e 2 multisummon non posso fare più di quelle anche perché poi mi esce l'inventario pieno quindi anche se c'ho 177 dream ball poco cambia la scritta è normale non ci sono piume non c'è chance cosa poteva mai essere c'è tipo tipo mai shortare io e si illuminava il pallone e zan a zan a zan a zan a zan a e quindi la prima è logicamente vuota ma non ci cura ma bellissimo rabbè madonna me il dream mamma mia che trauma che sei oggi sei un trauma sei un trauma ok quindi neanche questo sembra ispirare bene e infatti non ha per niente ispirato non lo dava non ce lo dava non ce lo vuole dare lo schifo anche così perché così non perdiamo tempo fottuto zaragusa di merda eppure devo dire che nel vecchio account va bene a livello di ssr non mi uscivano mai messicani e roba varia terza estra cioè io ci spero sempre nella lucetta non so perché sono abituato a sculare no quindi ora che non sto sculando e niente quindi terza estrazione vuota nitta bellissimo nitta bello ti cercavo non sai da quanto tempo ha per chi si perché sto con diciamo mezza felpa non so da voi come il tempo ma napoli all'improvviso fa gli acquazzoni da un secondo alla si è bloccato che da un secondo all'altro fa gli acquazzoni e quindi divisi devi stare preparato ci devi stare ok memorie 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 c'è robe e memorie no tu quando mi fatto vedere in memoria gli agito ok 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 e memorie che cosa c'è tu mi fattori memorie che cosa mi ha fatto vedere le memorie di un di un naturalezza battere in memoria in un naturalezza ti sei ricordato che naturalezza esiste quindi ci c'erano le memorie di un naturalezza vabbè vabbè già mi sono già mi sono rotto lo scocones ok fai puremo le memorie trollate in questi video in sti video mi stanno trollando solo memorie non so se pure a voi è così non so se hanno aumentato il il ratio per cui le memorie escono e quindi google è nuovo bellissimo non so se hanno aumentato il ratio delle memo ragazzi ho fatto più singole di quello che devo fare sì mi sa di sì no mi sa di no non lo so verso il conto senti a vai non so quello che sto facendo vai molti sa ma non mi sono perso un attimo mi sono perso un attimo proprio il conto delle cose che devo fare l'ho perso proprio è normalissimo non ci sono cose e vuoto memorie vuote perché logicamente ormai mi sono abituato memorie vuote come è possibile no ma tu mi devi rispiegare come cazzo è possibile che ci sono le memorie vuote c'è le memorie vuote cosa sono ste memorie vuote com'è possibile che ci sono memorie vuote con la pala memorie vuote 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 una volta quando usciva la memoria era ssr garantito non ci facevi più niente ora escono memorie con la pala e non esce un cazzo di niente un cazzo di niente cioè almeno uscivano le memorie tu eri sicuro che avevi un ssr ora invece escono le memorie cioè tipo ora che cos'è che c'è che cos'è sta cosa c'è ma mi sono uscite tutte 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 le ragazze tutte le 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 chita morten o io 4 4 ne tengo di ssr ma come fate uscire doppioni no è boh c'è senza parole veramente senza parole c'è tengo quattro personaggi crociati da dio quattro personaggi crociati da dio come fa come è possibile sulla faccia dell'esistenza che mi vengono mi vanno ad uscire gli stessi ssr che io già ho come è possibile cioè come è possibile un altro no uno che esce a fare il tifo no faccio schifo io boh non capisco margus figlio di puttana perché non tu perché chester e vabbè ragazzi questo sì si chiude il mio dream festival il mio dream festival si chiude così purtroppo non è uscito margus ma è uscito chester speravo lo sapete speravo in margus mi serviva margus per la verde ma non penso che riuscirò a fare altre dream ball per la fine del la fine del dream festival penso che purtroppo questa è la fine del mio dream festival però ho notato che quando tira roberto esce un personaggio banner cioè banner un personaggio e retap 100 100 o quasi quindi questa è stata diciamo alla fine questa è la fine del del mio dream festival un dream festival in cui ho buttato 200 150 comunque un 600 dream ball e le buttate sicuro in cui devo dire la verità non mi aspettavo che margus non uscisse mi aspettavo di sculare come mio solito però non è stato così proverò con le piccole dream ball che riesco ad accumulare se riesco ad accumulare magari proprio qualche singoletta ma non penso che riuscirò a farne anche cinque neanche 50 perché il tempo non ho tempo cioè non ho proprio tempo ne oggi non domani non ho più tempo quindi ci ho provato finché ci potevo provare purtroppo la fortuna non è stata dalla mia parte vi ringrazio per avermi seguito anche stavolta non sto imprecando come un pazzo perché c'è il gatto che sta impazzendo quindi sto pensando più al gatto che che a me e che dire vado a fare i miei servizi giornalieri vi ricordo sempre che ci sono i vari gruppi shampoo appa shappappà vabbè raga devo andare a seguire il gatto che sta impazzendo vi ringrazio per aver visto anche questo video il mio dream festival purtroppo finisce così con una con una lacrima che scende non è male comunque in linea generale c'è star perché posso comunque girare l'account verso una monoeuro c'è una monoeuro una rainbow euro quindi comunque non è male non posso dire che è andata male ogni 150 dream mobile mi è uscito un dream festival quindi non posso assolutamente dire che è andata male se sarei un po bui sarei bugiardello è andata comunque meglio di quello che mi no ma io di quello che mi aspettavo no però meglio di quello che solito valo 50 per cento della community quindi non è andata malissimo però non è uscito quello che volevo io quindi niente 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 quindi vi ringrazio ancora una volta per aver visto il video e ragazzi becchiamo domani più che altro per supposizioni se ce la faccio per supposizioni su quello che potrebbe uscire come banner selezione world cup ma sicuramente non per le pullate perché non c'è la faccia a raccogliere le dream per questo video è tutto ci becchiamo alla prossima ciao